Buongiorno a tutti, sono Alessandra, mi occupo della comunicazione del giardino monumentale di Valsanziglio. Siamo a 15 minuti da Abano Terme e qui c'è un giardino che è stato pensato come a un vero paradiso. È stato concepito 350 anni fa dalla ricca famiglia veneziana Barbarigo, venne concepito in un periodo storico estremamente difficile e complicato per Venezia, poiché c'era la peste, c'era la guerra, c'era il declino economico, Venezia stava vivendo un periodo storico difficilissimo. Ecco che i Barbarigo qui hanno voluto dar vita ad un giardino simbolico che è anche un percorso che porta alla rivelazione. Un giardino che vuole sottolineare che pur con le sue difficoltà la vita è meravigliosa. Ecco che qui abbiamo un giardino progettato da Luigi Bernini, il fratello più giovane di Gian Lorenzo Bernini, con peschiere, fontane, scarzi d'acqua, alberi secolari da tutto il mondo. Abbiamo un labirinto storico in bosso secolare e tutto un percorso che appunto porta a sottolineare quanto la vita abbia le sue difficoltà. Ecco il significato del labirinto Valsanzibio, ma tutto si può risolvere. Questa è una passeggiata di piacere tra alberi secolari dall'Africa, dall'Asia e dall'America, sculture, fontane, una vera passeggiata paradisiaca. Questo giardino è considerato tra i giardini storici più importanti a livelli internazionali. Siamo aperti tutti i giorni, da fine febbraio alla prima settimana di dicembre e poi riapriamo anche nel periodo delle festività natalizie, anche nei periodi di chiusura, su prenotazione, siamo a disposizione dei nostri visitatori. Grazie a tutti.